ed eccoci qua cari amici il raduno della cisa è finito e adesso vediamo il caricamento di una fiat multipla su un cassone di un 682 attenzione guardate stanno preparando il tutto guardate qua vediamo un po' a vedere qua queste operazioni di caricamento la multipla andrà a finire sul cassone del 682 vediamo un po' qua eccoci qua cari amici guardate multipla ed eccoci qua dai attenzione qua vediamo se ce la facciamo c'è la diretta qua ragazzi ce la facciamo qua caricarla buona dai vediamo dai eccolo qua operazione di caricamento ed eccoci qua dai allora diamo avanti caricamento della multipla qua di buon Giuseppe sul cassone del 682 insomma è una cosa insolita però intanto c'è eccola qua ragazzi caricamento fiat 600 multipla sul cassone del camion 682 qua direttamente nel passo qua direttamente da da zone qua di santo stefano adesso mi ricordo la zona in questo momento però quello che conta che la multipla andrà a finire sul cassone del 682 sono insomma come diceva il buon Giorgio i carichi alla Cristiano Polliti eccolo qua andiamo a vedere qua le operazioni ci siamo ci siamo c'è la diretta qua guardate qua tutti qua che stanno guardando come si carica una multipla ce la facciamo Giorgio grafene 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 vai vai Giuseppe eccolo qua vai Giorgio insomma niente vai vai Giuseppe adesso dai c'è il caricamento guardate qua insomma eh ragazzi guardate fiat multipla sul cassone del 682 insomma è stata una novità per tutti insomma tutti guardano è stata una novità per tutti insomma tutti guardano e eccolo qua cari amici insomma qua il Marvin chiude il report l'abbiamo fatto la multipla su 682 è andata e vai col liscio ragazzi ciao a tutti spettacolare raduno della Cisa viva light auponciお